buongiorno a tutti faccio questo video per raccontarvi la mia ottima esperienza avuta con mb store in quanto ho ordinato da loro la mia serie civile bticino absolute e riscontrandomi del personale molto qualificato e gentile i prezzi sono ottimi e il materiale arrivato in tempo cedere vi consiglio altamente di fare degli affari con loro grazie buona giornata grazie